Al genito Urinary Cancer Symposium dell'Asco in Corso San Francisco sono stati presentati nuovi dati dello studio di fase 3 Latitude e noi ne parliamo con il dottor Roberto Iacovelli. Allora dottore innanzitutto ci ricorda che cos'è questo studio? Allora lo studio Latitude è stato un grande studio di fase 3 che ha interessato un sottogruppo particolare dei pazienti affetti da tumore della prostata ovvero nei pazienti con malattia metastatica all'esordio e malattia ormonosensibile. Questi grossomodo nella nostra pratica clinica rappresentano circa il 5-10% di tutti i tumori tuttavia è un'evenienza piuttosto drammatica perché i pazienti esordiscono proprio con una malattia avanzata. Negli ultimi 4-5 anni questa patologia ha riscosso molto interesse grazie alla presenza di nuove modalità di trattamento che hanno dapprima portato alla dimostrazione di un beneficio da parte della chemioterapia e in ultimo grazie allo studio Latitude ha anche una conferma del ruolo di abilaterone in questo sottogruppo di pazienti. Qui a questo congresso sono stati presentati nuovi dati che danno un quadro più completo della sicurezza del farmaco e sui patient reported outcome. Quali sono questi dati? Sì, di fatto lo studio Latitude è stato sviscerato ulteriormente in questo congresso e ne sono emersi importanti dati. I primi sono sull'efficacia, i secondi sono soprattutto sulla safety di questo trattamento e sul ruolo che la terapia può avere anche in rapporto alla chemioterapia sulla qualità di vita dei pazienti. Per quanto riguarda l'efficacia c'è da segnalare come i pazienti siano stati di nuovo analizzati in base alla classificazione utilizzata nello studio per la chemioterapia, ovvero nello studio CRT, dedividendo i pazienti in alto e basso volume. In questo caso è stato confermato il ruolo di abilaterone proprio nei pazienti ad alto volume e anche nei pazienti a basso volume, pur non essendo ancora confermato il beneficio di sopravvivenza, probabilmente dovuto alla scarsità di questo sottogruppo di pazienti. Per quanto riguarda invece la safety, questo era un elemento molto importante perché questo studio differiva dai precedenti studi con abilaterone proprio per la dose di prednisone che veniva utilizzata. Negli studi nella malattia castration resistant si utilizzavano i 10 mg, qui invece sono stati utilizzati i 5 mg. Questo ha portato ad alcuni interessi, diciamo su alcuni effetti collaterali e si è visto che in realtà viene confermato quello che è il profilo di safety del farmaco con alcuni eventi già conosciuti come quello dell'ipertensione che però non portano fortunatamente ad eventi molto più importanti come ad esempio gli eventi cerebrovascolari. Quindi il profilo del farmaco sostanzialmente viene confermato per quello già conosciuto dai clinici da diversi anni a questa parte. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, ovvero quello dei patient reported outcome, questo è importante perché è stata effettuata un'analisi in diretta confrontando gli studi della chemioterapia con quelli della abilaterone e si è visto che due elementi, uno è la qualità di vita, l'altro il controllo del dolore. Per quanto riguarda la qualità di vita, la chemioterapia fa registrare un decadimento dei parametri di qualità di vita durante i primi mesi che poi viene progressivamente recuperata, mentre la abilaterone permette di conservare un'ottima qualità di vita ai pazienti e questo dato è dovuto al controllo costante che si ha della malattia con una terapia che viene presa in maniera continuativa. Proprio la modalità di assunzione e di somministrazione diversa della terapia può spiegare anche la differenza per quanto riguarda il discorso del dolore. Con la chemioterapia si ha un rapido miglioramento nei primi tre mesi ma poi un decadimento dal partire dal sesto mese in poi, con invece la abilaterone si ha un controllo costante del dolore nei pazienti e questa è la forza di questo farmaco che viene assunto continuativamente rispetto alla chemioterapia che viene fatta per un breve periodo di tempo. E qual è il suo commento a questi dati? Di fatto abilaterone si conferma come un farmaco efficace in questo sottogruppo di pazienti con alcuni aspetti che sono la conferma della sicurezza, la conferma dell'efficacia e la conferma di un ottimo rapporto tra l'efficacia del farmaco e la qualità di vita che deve essere tenuto in considerazione nella scelta del farmaco più adatto per questo sottogruppo di pazienti. Grazie.